Ultimi allenamenti per Olimpica Basket e Castellano Udas in vista di una fine settimana cestistico ininteressante. Per quanto riguarda la Serie C nazionale maschile, riflettori puntati sulla trasferta della Castellano Udas a Napoli contro la Megarit Basket. Dopo il turno di riposo forzato e l'addio di Frank Mazzotta dalla squadra di Matteo Totaro, per motivi personali non riusciva a reggere il confronto ma soprattutto il lavoro tra Mola di Bari e Cerignola, adesso si punta la prossima settimana a cercare un degno sostituto. Le trattative sono in corso e sicuramente all'inizio della prossima settimana ci sarà qualche novità. Novità potrebbero arrivare anche per l'Olimpica Basket nella quarta giornata del girone di andata del campionato di Serie C regionale. Dopo il 20-0 a tavolino di Lecce, la formazione guidata da Antonio Russo ospiterà la cestistica Barletta al terzo ultimo posto in classifica. Secondo le ultime notizie che trapelano è un torage della squadra guidata dal presidente Rosario Serracino, potrebbe debuttare finalmente Michael Panaggio che dovrebbe aver ricevuto l'ok da parte della federazione italiana Panacanestro. Ovviamente mettiamo il condizionale anche perché in questi casi non si sa come potrebbero andare a finire le cose.